Ci insegna a sparare mirando Questa qua è una cosa che molti non sanno ancora fare adesso E si in effetti uno di tre anni sicuramente vede sta roba qua E sicuramente sa indicare perfettamente la sua età Vabbè tecnica della doppia rosa Facciamo anche un emoji Signori buongiorno a tutti benvenuti in questa nuova live Come state? Spero tutto bene E soprattutto benvenuti in questa nuova serie Ragazzi vi presento Zero to Hero Ragazzi una serie che cominciamo oggi Adesso vi spiegherò tutto quanto È la serie per eccellenza Racchiude tutta una serie di punti Che vedrete poi anche insomma nei prossimi episodi Partiamo subito Zero to Hero Cinque regole compongono questa serie Regola numero uno Non puoi farti carriare Questo vuol dire che dovrò giocare solo ed esclusivamente con i random mini Partiamo così Regola numero due Non puoi nerdare Quindi questa serie avrà una durata streaming che non può superare l'ora di gioco Ok? Non si può giocare per più di un'ora al giorno questa cosa Regola numero tre Non puoi shoppare Quindi solamente le gemme ottenute gratuitamente si potranno spendere Regola numero quattro Non puoi farti sniperare Ovvio questo è molto difficile Quindi sarò costretto a creare un account Ovviamente da zero perché se si chiama Zero to Hero devo partire per forza da zero Però con un nome classico Il nome forse più classico che esista E ultima quinta e ultima regola ragazzi Non potrai usare il matchmaking Quindi non potrai né creare né far parte di un clan Insomma in questa serie vado a mettermi nei panni Del giocatore è veramente alle prime armi Vado a prendere tutto quello che è stato anche un po' la critica Della serie dei rank 30 Ok? E la faccio diventare una nuova serie Ok? Spero che vi un'idea vi piaccia Ovviamente cominciamo subito Eccoci sul nostro ipadino Che lo potete vedere sul nostro account Oramai di 42.500 coppe di record Tutti i brawler al rank 30 Insomma oramai lo conoscete benissimo Oggi questo account andrà messo ovviamente a parte Come si fa? Bisogna crearne uno nuovo Per creare un nuovo account basta andare a pigiare Su quel tastino in basso a destra Comunque non ve lo posso far vedere perdonatemi Sarà necessario uscire dal Supercelli D E ovviamente ci ritroveremo in questa schermata Tasto accedi o tasto gioca senza Supercelli D Ovviamente clicchiamo su gioca senza Eccoci qui con il nuovo account Con giustamente Sieli Andiamo a raccogliere le gemmine C'è il classico tutorial ragazzi Ci insegna a sparare mirando Questa è una cosa che molti non sanno ancora fare adesso Ti diamo il benvenuto a Brawl Stars Come ti chiami? Vi ricordo regola numero 4 Non puoi farti sniperare Quindi userai un nome falso o molto utilizzato Ragazzi qual è secondo voi il nome più utilizzato su Brawl Stars? Io ce l'ho già in mente però lo chiedo a voi della chat Bot1 scritto così Altrimenti Crow scritto così Secondo me è morti Killer Pro ragazzi Oppure tipo XX Dark XX Quarta opzione Dark Leon Ice Spike Vabbè ragazzi Ha stravinto Bot1 La fantasia di questo account è altissima Ti diamo il benvenuto Specifica la tua età Cioè mi chiedi se sono un dynamite o una bea? Cioè scusami Dai 60 anni in più generalizziamo Cioè se io ero un 65enne Ma devo dire la verità? Dai cerco di essere sincero Caspita 23 anni Cioè ma 23 anni secondo sto gioco sono già oltre un terzo della mia esistenza Ma scusami eh Ma scusami eh Non lo so Posso anche mettere in tre Eh sì in effetti Uno di tre anni sicuramente Vede sta roba qua E sicuramente sa indicare perfettamente la sua La sua età Vabbè Vede sta roba qua ragazzi Non la sapevo assolutamente Sono cringiatissimo Conferma Vabbè facciamoci il tutorial giustamente Sempre rigorosamente senza audio ragazzi Non sento niente Vabbè Non lo so Aspetta ma ho sbagliato Ho messo bott1 Scritto sbagliato C'ho una lettera C'ho una lettera minuscola Che brutto Ebbè ma ragazzi In effetti è più utilizzato bott1 scritto sbagliato Che bott1 scritto giusto Quindi ci sta anche sta cosa Vuoi caricare altri progressi Con il tuo livello esperienza 257 No Non voglio Gioca anzi Ah ma sono già contro degli altri Anche nerd E' vero Anche nerd come nome ragazzi Si vede spesso Che brutto non avere i gadget ragazzi Che roba brutta Spinniamo Vediamo un po' se Vediamo un po' se capiscono la mia lingua Non credo Mi sa che non Ha fatto l'emoji Vabbè dai mi ha fatto l'emoji Non erano bot Erano player preparati questi ragazzi Ragazzi Box opening No 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 Questa l'apriamo Spilliamo anche poi in ita per carità Però ragazzi Io ve lo dico Io ve lo dico Qua facciamo i box opening Qua ci facciamo i box opening Andiamo a piazzare il primo upgrade Va benissimo Siamo di livello 2 signori Non vorrei dire Triplassielli Questo qua si chiama Vabbè ma che gente è Ada Ma che gente è Come si chiama Shopping Sofia Cos'è un negozio Cos'è Ma perché Vabbè Questo qui si chiama Daddy Uno migliore dell'altro Regalano veramente emozioni Oggi questi Questi giocatori Guarda questo Quanto è forte No dopo faccio una bella Account review ragazzi Vai 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 Bomba Oh la matto Ho staccato persino il cavo Ho staccato persino il cavo Delle ipad Qua mi fa sbloccare nita Ovviamente nita ce la andiamo A sbloccare Tranquillissimamente Che bella La nuova La nuova schermata È tutto nuovo per me Questo ragazzi Io l'inizio del gioco L'ho vissuto in una maniera Completamente diversa Ok Si si può selezionare Seleziona il personaggio Blah 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 Qua giustamente Mi dice subito Che c'è da shoppare il mondo Parla e magari Andiamo a prendere Nel prossimo episodio Qua c'è da potenziare Inseriamo subito Il codice ferre Anche qui Abbiamo una cassettina Ma si dai Che magari Si sgoda E si trova Non si trova niente Sei tranquillo Ferre Non si trova niente Però magari Un altro upgrade Lo scelli Lo si può fare Perfetto 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 E raga Fermi tutti Io comincerei a concentrarmi Su scelli Ora come ora Io comincio a fare un po' Di partitine Tattiche E magari dopo questa Faccio stabellini Di profilo review Degli account Perché non Ancora non l'ho fatta Questi cosa fanno Esattamente Aspetta Cos'è Grain Non so perché Ma per un attimo Ho letto Soy de Bresa Ragazzi Non so perché Per un attimo Io lì c'ho letto Soy de Bresa Ok Vai Buono 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 Mi raccomando Impegniamoci Tecnica della doppia rosa Mi raccomando Facciamo anche un emoji Bam Bam Bellissimo Che bello ragazzi Sono fortissimo Attenzione 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 Pazzesco Super kill Per il nostro ferre Scusa se sgoddo Non lo faccio apposta Se sgoddo Perdonami Attenzione Andiamo safe Andiamo safe Andiamo safe Ragazzi Mi raccomando Ed è subito rank 30 Eccoci qua Abbiamo ancora una cassettina Ce la pigliamo oggi ragazzi Insomma ci diamo dentro proprio Va benissimo E anche qua c'è ancora una piccola Brawl box Però sono un po' Lo barley lo potevo sbloccare Con il super serie di Sono un po' lastro Va bene A sto punto facciamo che Collegare il super serie di Aspettate Fase molto importante Quando si crea Un account E lo si collega Super serie di La scelta dell'avatar Mortis Palesemente su sfondo giallo Ha giudicato Ha giudicato Ma mi scusi Mi scusi Io l'ho collegato Al super serie di Lei mi deve dare La skin di barley Connetti Ma io sono connesso Ma che bug è questo Ma mi scusi Ah aspetta aspetta C'è un messaggio qua in Ah eccolo Si riscuote ragazzi Si riscuote Eccolo subito Bellino Bellino Ottimo Ottimo Sono un bimbo felice Va bene Abbiamo ancora una decina di minuti Allora vediamo un attimo Le persone che abbiamo Trovato contro 20 win 3v3 20 win in solo 28 win in duo Sto che era già avanti Anche questo Era già messo bene Sto che erano tutti giocatori Professionisti ragazzi Cioè ma venite conto Che spesso e volentieri Noi possiamo essere Smacciati contro Dei player Che non hanno Mai giocato prima Vediamo un po' di là Ma si ma guarda che roba 6 partite aveva fatto questo 4 partite Ed era già di un clan Oltretutto Ma scusa ma se entro In un clan russo Nessuno mi dice niente no Vabbè magari Entrerò in qualche clan Così a caso No no comunque Tutta la gente È veramente forte ragazzi Sticato che hanno già Sbloccato rosa Vabbè lasciamo stare Io sinceramente Non sarei schifato Dal fare le mie prime 100 coppe In questo video Però comunque sia Vi ricordo La prima regola No la prima regola Tipo la seconda regola Se non la seconda La terza Sto già laggando La regola comunque Da qualche parte C'era scritta Era quella di Non nerdare Quindi non posso Non posso esagerare Col push ragazzi Anche se Anche se brawl Ti porta a esagerare Non posso esagerare Ok guarda che Guarda che strategia Guarda che strategia Che sto adottando Contro questi player Incredibili Ok Qua li faccio così E via A posto Ragazzi penso di essere Il miglior gem carrier In campo Penso eh Adesso gli faccio un emoji Questo Nessuno che risponde Le mie spinnate Ti viene quasi voglia Di spinnare Solo per capire Se sono persone vere Ma non c'è nessuna risposta Non c'è nessuno Nessuno che risponde Ragazzi Nessuno Ah aspetta aspetta Barley Mr. X Mr. X potrebbe essere Un altro bel nome Ragazzi Ma lol Non sarò neanche Cosa vuol dire spinnare Quanto siete duri ragazzi Dai secondo me Restando Aspetta No Questo ragazzi No Lo sblocco della showdown Richiede un video se Nel prossimo episodio ragazzi Andremo a sbloccare La modalità showdown Allora vediamo un po' Ma c'è sempre un Barley Contro oltretutto Perfetto Perfetto Dovamo killare qua Guarda qua che lavoro Guarda che lavoro Guarda che lavoro Guarda che lavoro Guarda Che non ti ha fatto Quello lì Hanno Hanno un key di mistico Queste partite comunque Io vedo un attimo Se qualcuno mi risponde Niente da fare Niente Niente da fare È bellissimo Perché ti cominci a tirare i pugni Poi si ferma Niente da fare Io sarei curioso Di sapere Quando ci sarà La mia prima loss In questa serie È qualcosa di meraviglioso Vabbè Qua ragazzi Scusate È un po' sgoddato Ma ci sta Ryan Ryan sei tu Ah no è Rayen Niente Va bene Va bene Ah è vero Un altro nome Che poteva mettere Darkfire Ragazzi Darkfire Sì Ragazzi siamo arrivati Al rank d'argento Vi dico solo questo Io credo che Sia decisamente il caso Di fermarsi qua Per questo episodio Anche perché Ahimè Un'ora è passata Questo era il primo episodio Di Zero to Hero Spero che si sia capito qualcosa Spero che l'idea vi possa piacere Scherzi a parte L'idea della serie Nasce Uno Per andare a giocare Nella maniera più A darmi pari possibile Con chiunque di voi E In secondo luogo Per Rispolverare anche un pochettino Il gioco E andare a Magari pian piano Ripassare concetti Che Magari non abbiamo Mai approfondito Mai toccato Veramente Perché Molti di voi Mi hanno cominciato a seguire Quando io obiettivamente L'ho già Molto avanti col game Pensate che figata Sbloccare tutti i brawler Sbloccare tutti i brawler Ragazzi Io qua mi fermo Workerà anche qua Ricco Lo scopriremo Un saluto a tutti E Ciao belli